ecco ha fatto il moonwalk allora ci siamo abbiamo a che fare con linda roswell state sito credino che non capisci niente ci stiamo noi qua sul campo hai capito imbecille allora linda roswell e poi la sanità del 25 fai assistere al membro e rileva con la candela ora ancora sta candela e la nebbia e la nebbia che è proprio sempre la mia preferita allora la riparta andiamo da qua o tenda gialla l'ho già sentito o comunque in questa linea qua che porta la tenda gialla va bene te capi intanto io sì speriamo speriamo che non si sposti niente guardiamo la chiudo così vediamo se la riapre a scusi niente niente fatto facciamo il giro di qua battine de birra bottiglie de birra appunto ma sto camping ci vanno i bambini o che ci sono i coniglietti e poi ci sono le birrette ma io boh ma allora io accenderei si accendo c'è anche al bicezzo la luce caccia lei ok vediamo se è qua dentro e artigienica mi raccomando no stavolta la lascio lì ok dentro dentro il falon non mi sembra che ci sia niente qua dietro si può essere ma possibile non c'è e lì quando è sospeso per aria no nemmeno no porca miseria ecco già non va bene perché mi dovesse al fantasma a dove sentito che ha tirato con la grigia nella grigia quindi era un po spostato porca vacca sito vista t'ho vista cretina t'ho vista t'ho vista era eterea e cantava ho sentito questo è un livello 5 mf vai ormai allora potrebbe essere una banshee e no no se ne va ero convinta fosse una prova della banshee le mf ok allora non è una banshee va bene dunque vediamo qua che succede bello sì sì bellissimo capolavoro ti hai capito fai assistere al membro abbiamo assistito al membro e al membro abbiamo assistito assolutamente adesso la candela però prima metto il dots senti ma dove stava lì alla tenda perché ho fatto foto ma non no ti dico stava dove ci sono le luci quel palo lì dove sono attaccate tutte le luci lei era lì a lì davanti e chiaria da fino a me è probabilmente cammina ammazza se fai chilometri io ma allora questi due un po come siamo messi no va bene che dobbiamo fare come obiettivi la candela portola è solo che doveva metto la candela ma io ma lì anche vicino al palo proviamo a metterla lì sotto tanto non piove per una volta allora però dobbiamo spegnere la luce perché se non si vede una c'è però ci dobbiamo prendere anche la adesso vabbè 72 rischiamo rischiamo saranno adesso ci ci sciotta subito allora uno lo metterei qua e uno un po spostato qua e poi prenderei la telecamera e la metterei qui però dobbiamo andare a spegnere per forza ma io ho spento no no ho spento io la spenta la spenta ottimo ci sei ok nella tenda nella tenda prendo le pastiglie subito alla spenta lì nella tenda ma allora può essere che bisogna spostare perché io ho messo tutto vicino al palo e beh guardiamo un attimo qua dove cacchio è ma ma seriamente ma non è possibile massima la nebbia è veramente una condizione assurda da mettere in un gioco così in un camping con la nebbia non si vede niente allora il libro lo mettiamo l'hai già messo no cioè c'è il salva schermo della televisione che fuori dalla televisione te visto te visto mi dica lei cosa vuole portare il sale lo vuole portare aspetta questo lo devo prendere lo lancio un attimo qua che lanciato dentro ma io porto vuole portare che insomma il termosifone porto questo ok e poi porto ma portiamo questi va vediamo questo livello 5 con le corna questo è un cazzoso io lo dico allora lei mi diceva che è qui nella tenda grigia no temperaturo qui temperatura assolutamente non ce n'è no no ma dentro dentro vai dentro ha buttato una scarpa una scarpa aspetta fa manda prende l'mf che ho buttato qua allora spostiamo almeno un dots sicuramente ciavo le sue ciapette davanti amico spinta prenda la telecamera la sposta da qualche parte lì a eccola già fatta Ok. Vediamo se sta lanciando tutto. Vediamo se si vede qualcosa. Ho messo un po' più vicino verso la tenda. Con l'aspiranza che... Ok. Meglio di prima. Non ci stanno sfere, però. Eh no. Ci stanno i cani, però. Senti quanti cani ci stanno. Sono stati attirati dal fantasma. Eh sì. Ci stanno di andare via. Perché i cani sentono prima, no? Esatto. Quindi potremmo anche fidarci di loro. Io prendo le pillole. Io mi darei proprio. Eh sì, perché i cani non sbagliano mai. Eh, guardi qua, gattivi detti, eh. Io proverei con la spirit box. Mi aspetti qui. Con fiducia. Quanto ho di sanità? Ok. Sta salendo, eh. Sta salendo, quindi. Vedete se ha scritto sul libro. Ok. Dove sei? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Dove sei? Ma dove, dove l'ha messo il libro lei? Su un frigorifero. Com'entri a sinistra. Ah, ok. Sì, no, non ha scritto. Dove sei? No, niente. Credo proprio che non sia una prova. Provo ad andare in giro con questo. Vedere se magari... Vengo con il sale. Vogliamo provare il sale? Sì, sì, sì. È che non si palesa più. Lei ce l'ha in sparafuglia? Sì, sì, ce li ho qua. Ah, ha buttato, sì. Roba le ha buttate. Dai, che ci si abbassa la sanità su Linda, era? Non sai che non mi ricordo. Oh, niente. È morta. Invece del coso, il termos, dove è il termos? È qua. Infatti lo volevo ricontrollare. Prima faceva 15. Ma 13. Ok. Ok, si è alitato. Però non passa sul sale. Si è mangiata... Può essere il Brett. Sarebbe essere il Brett. Che non passa sul sale, si è anche arrabbiato perché l'abbiamo messo. Andiamo a ricontrollare? Eh, vediamo. Il Brett, se fosse, che c'ha? Allora. Il Brett c'ha... EMF, Spirit Box e Puntatore Dots. Eh, la Spirit Box non mi ha risposto. Però il Puntatore, porca miseria. Eh, adesso siamo veramente... No, ma mi scusi, lei è altissima di sanità. Ah, è perché io ho usato la Spirit Box. Eh. Che cavolo. Che possiamo fare? Eh, non lo so. Nulla possiamo fare. Possiamo tirare a indovinare. Io metterò il Brett, visto che non è passato sul sale. La metterò il Brett. Eh, amen. Tiriamo così. Yes. Vada, vada. È divertente quando l'azzecchiamo magari senza spesso. Ma perché lei butta roba in giro prima di chiudere? Non siamo noi che poi ripuliamo i forgoni. Eh, vabbè, ma guardi. Ma che figura facciamo, capito? Io sono già emozionata a vacanza. Poltergeist. Vabbè. Va bene. Ma c'era il poltergeist tra... No. Non mi sembra che... No, perché allora ho sbagliato a dire che era un... Ma a me sembrava che ci fosse l'MF, comunque. Ma a me sembrava che... Ma a me sembrava che... Ma a me sembrava che aveva... Grazie.